Buongiorno a te, buongiorno! In Italia è ancora molto molto presto, qui sono in Sri Lanka sono le sette e mezza e faccio questo video perché mi è arrivata un'ispirazione per te proprio oggi. Oggi è un giorno particolare, è un giorno di lavoro profondo, qui passano, c'è una strada quindi sentirai un po' di rumore. E' un giorno di lavoro profondo sul plesso solare. Andremo a fare un lavoro durante tutta la giornata per sbloccare il plesso solare, per lasciare andare quei limiti così forti che magari hai sentito nella tua vita e che ti fanno rallentare, che ti fanno limitare il tuo campo d'azione, soprattutto perché spesso ti dici non posso, non ce la faccio, non posso, è troppo per me. Tutto questo è un qualcosa che tu puoi lasciare andare, scusami ma intanto vedo passare scogliattoli volanti, uccelli di tutti i tipi e quindi sono un po' distratta. Qualcosa che puoi lasciare andare con facilità. E proprio oggi faremo un lavoro specifico su questo. Cosa devi fare oggi? Cos'è bene che tu faccia più che cosa devi fare? Allora la prima cosa che ti suggerisco è proprio di portare l'attenzione sul tuo plesso solare, di appoggiare le mani. Il plesso solare, tra l'altro nel caso non conoscessi chakra, si trova proprio sotto il diaframma, dove finiscono le costole, in particolar modo lo sterno, subito lì sotto, ok? Dove viene detta che c'è la bocca e lo stomaco. Quindi tu porta le mani lì, porta la tua attenzione lì e ascoltalo. Ascolta come si sente, come ti senti in quella zona del tuo corpo. Senti se è rilassata oppure c'è tensione. E comincia a respirare profondamente facendo passare il tuo respiro da quel punto. Si tratta di porre l'intenzione, di mettere la tua attenzione con la volontà che il tuo respiro attraversi il tuo plesso solare. La respirazione deve essere una respirazione diaframmatica, bassa. Intanto sentirai già che il tuo plesso solare si rilassa, si ammorbidisce. E mentre questo accade, comincia a ripeterti durante la tua giornata. Ce la posso fare, posso fare tutto, posso realizzare qualunque cosa. Sono un essere divino e posso realizzare veramente qualunque cosa. Ripeti questo esercizio più volte durante la tua giornata. E verso metà giornata, alla terza volta che farai, almeno alla terza volta che tu farai questo esercizio, ti suggerisco di aumentare il livello. Aumentare il livello in che modo? Allora, oltre alla respirazione, a quel punto, sempre nel punto del plesso solare, permettiti di ricevere l'energia della fonte. In che modo? Sempre con l'intenzione. Poni l'intenzione che l'energia della fonte arrivi proprio in questo punto. Puoi provare subito a farlo. Sempre ripetendo quelle frasi. Sono varie frasi, non devi per forza dire esclusivamente quelle che ti ho suggerito. Ovviamente ti faccio un piccolo ventaglio. Puoi dirne molte di più. Sono sempre connesse al permetterti di realizzare qualunque cosa nella tua vita. Non si tratta di dire sono potente, sono qua, sono là. Semplicemente connetterti con le infinite possibilità di ciò che tu puoi arrivare a realizzare nella tua vita. Quindi, durante tutta la giornata fai questi esercizi. Poi può darsi che faccia altri video o no, non lo so, dipende da quello che succederà durante la mia giornata. E ci sentiamo presto. Un abbraccio. Buon lavoro e buon rilassamento del tuo plesso solare. E quindi connessione con il tuo potere personale. Ciao! Ciao!